Ahah, quindi questa è la base operativa di Grifr, eh? Molto confortevole e ben organizzata, devo dire, ma... Manca, diciamo, di assistenza. Davvero operava da solo? Devo dire di essere molto confuso. Io, Ezal Benere, non so bene come comportarmi in questa situazione. Sono la Nemesi di Eren Blaze, ma come considerare in mezzo alla nostra diatriba Eren Creeper? Mmm, non lo so. Vorrà dire che mi adatterò alle circostanze. Assumerò anch'io il ruolo del Grifr e oggi farò la mia prima missione. Mondo di Sonditto, venerate la santa TNT. Non solo la venererò, gli farò qualcosa di più. Eccoci arrivati nel mondo di Sonditto. Ehm, sì, siamo solamente noi nel server. E sono spawnato in mezzo al grano, ma che bello. Andiamo subito a rompere un po' di grano, che magari se avremo anche fame. Non è che mi dispiace come cosa spawnare nel cibo, eh, voglio dire. Nel mondo da cui vengo io, il cibo non cresce, pensate un po'. Voi piantate il grano finito nella terra e lui decresce come risultato dalla finita di da un seme. È un mondo davvero difficile. Ah, ci sono delle mucche qui. Siete libere mucche se volete. Non fatele timide. Non state lì nascoste. Ah, porto distruzione in questo mondo come in tanti altri regole. No. Non griffare, non cittare, non rubare, buongay, non chattare. Ma, in che senso non chattare? Storia del real. C'erano una volta due villaggi molto vicini che si facevano alla guerra tra loro. C'erano per un evento misterioso e due villaggi dovettero costruire delle mura attorno a loro. E da qui la guerra finita. Dall'ora i due villaggi venerano il culto della santa TNT. Ok. Vi daremo anche noi una bella venerata, non vi preoccupate. Allora, questa è la prima casa con una scala molto fastidiosa. Aiuto. E siamo però scesi in un'uscita posteriore che è piena di animali. Cioè tu scendi in una farm. Questa è sicuramente una cosa originale che è spavento. Eh, un'armatura. Aspetta che la prendo, va. Pensavo ci fosse un player dietro l'angolo, mannaggia te. Arma automatica di canne, ovviamente. E' luogo vuoto. Ok. Tutto molto chiaro. Io voglio spawnare le galline nel nether e farle cadere nella lava. Morite, polli! L'avrebbe mai fatto Eren questo? Non credo proprio. Ma Edzalb lo può fare. Ah, i blocchi del nether mi fanno male. Ok, qui in fondo c'è la miniera, probabilmente. Andiamo sulla fiducia. Vado a vedere. E ho capito, andiamo a vedere. Non è che ho tanta voglia di fare queste scale dove sbatti la testa ogni gradino. Tipo, ahi, 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 ahi. E' una miniera senza nulla dentro. E' stato inutile scendere fino a qui. Aia, 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 aia. In compenso, qui c'è un magazzino. Un bel magazzino. Spero. Bel magazzino. Metti via un po' sta roba. C'è della TNT? Ma guarda te. Questa armatura è consumata e questa invece è intatta. Quindi la prendo più che volentieri. Ma grazie mille per queste TNT. Ma guarda, proprio non dovevate. E qua c'è altra polvere da sparo. Abbiamo delle enderpearl, arco e frecce. Direi di prendere cibo. Perfetto. Così possiamo lasciare giù queste cose. Minerali. Tipo diamante. Tipo questi per fare gli acciarini. Ma quanto sono contento. Gli esmeraldi ce li prendiamo. Il mio primo loot. Cobb sono andesite. Blocchi vari. Roba a caso. Altra TNT. Blocchi vari. Blocchi vari. C'è anche della sabbia. Ma qui proprio facciamo festa. Guarda qua. Quante cose che possiamo fare. Abbiamo dell'avanzo. Però direi che ci sta tutto. E possiamo anche fare un bel po'. Nel mentre c'è un animale che mi sposta a quanto pare. Galline. Fossi in voi mi sposterai da qui. Perché sta per saltare tutto. Io ve lo dico. C'è anche qua. La zona enchanting. Forse ho già messo troppe TNT. Che dite? Io direi di farle esplodere. Magari scappiamo anche. Perché tra un po' qui. Proprio salterà in aria tutto. Oh mio dio. C'è stato un botto incredibile. Raga. Non esiste più niente là sotto. L'inizio non c'è per niente male. Questa casa è fatta di legno. Poi dargli tranquillamente fuoco. Vediamo se spreada il fuoco. Spreadda. E comunque una bella TNT io la metterei lo stesso. Cioè poi fate come volete voi. Aia. Abbiamo già violato le regole. Quindi nel dubbio. Io queste regole non le ho mai viste. Quali regole? Tu hai visto delle regole? Tu hai visto delle regole? Io no. Non c'è nessuna regola. Allora si parlava di due villaggi. Una situazione sicuramente non nuova. E. Oh c'è un fossato. E questa redstone. Ah il fossato credo che si chiuda durante il giorno. Eh sì eh. Questo è un comune villaggio di villager. A quanto pare. Che nasconde un'armatura d'oro. E una chest del tesoro. O forse una storia. Prima di conquistare le mure intorno ai villaggi. Un gruppo di villager se ne andò. Costruirono un tempio della TNT. E una torre. E affidarono a un iron golem rosso. Il compito di proteggere il tempio. Questo gruppo andò a vivere oltre le montagne. Dove lì costruirono un villaggio. Però più piccolo. Dal villaggio del deserto e della Sala. Questi indizi ci porteranno molto lontano. Per cui ci sono diversi villaggi. Che dovremo ovviamente griffare. Intanto da questa parte io già vedo il villaggio della Savana. Quindi direi di andarci subito. Mentre tutti gli animali sono già in giro. Ehi là villaggio della Savana. Vi farò l'onore di distruggere il vostro eh. Siete contenti? Villager della Savana? Mi chiedevo. Non avete anche voi una storia da qualche parte? Apparentemente no. Vi farei esplodere i cancelli qui. Perché ci sta. Guardate il fuoco come spredda per bene. Il villaggio oltre le montagne per l'appunto. Come dicevano le scritture. Questo villaggio è più piccolo. Villaggio della Pianura. Con l'H. Perché con l'H? Ehi. Ehi. Guarda che si è riaperto. È appena cambiato il tempo eh. Ho rischiato di morirci male. Mi sa che un libro me lo sono perso. I villager che fanno parte di questo villaggio sono i vecchi abitanti degli altri villaggi. Beh mi sembra giusto. Quindi vecchi abitanti. Per parco undicio. Anche voi dovrete bruciare. Fare cose. Quindi mi spiace. Ma oggi va così. Oggi sono giusto. Sono buono e giusto con tutti. Ok? E vai. Villaggio della Pianura. È stato bello conoscerti. Come Monster Hunter. Ragazzi ho ucciso qualche mob con la TNT. Non mi sono neanche accorto. Guarda qui però perché c'è una barca. E ora malgrado la pioggia io non vorrei far mancare un po' di fuoco anche a questo ponte. Non sia mai che si offendano villager del ponte. Quindi ragazzi diamo fuoco a tutto. Qualche TNT anche qua nel passaggio. Così solo per allargarlo. Magari diventa più comodo. E già. E già. Un Creeper. Ciao Creeper. Contribuisce anche tu alla causa. Mentre lì ci sono un sacco di Iron Golem. Che stanno difendendo una farm. Che prima ho palesemente ignorato. Ma vorrei vedere di che cosa si tratta. Ah no. Là c'è effettivamente un villaggio della... Oh! Raga. Raga. C'è il Golem che mi vuole picchiare. Il Golem mi vuole picchiare. Prepariamogli una trappolozza. Vieni Golem. Vieni. Guardalo maledetto che mi voleva uccidere. Guardalo. Ti sei messo contro la persona sbagliata Golem. Comunque che diamine è questa cosa? Ah è una farm di villager. No ragazzi. Non hanno perso l'aggro per niente. Ai ai ai. Meglio andarsene. Eh guarda. I Golem come nemici proprio non li voglio. Va bene tutto. Ma i Golem sono un pelo forte. Anche se avevo l'armatura di diamante con un colpo mi toglievano metà vita. Cioè bisogna stare attentissimo. Allora qui a quanto pare c'è un enorme torre. Quindi direi che una bella esplosione qui potrà fare un bel danno. Merda. Merda ragazzi. Era una trappola. Era una trappola per i Griefer. Era una trappola per i Griefer. Raga era una trappola per i Griefer. Dobbiamo liberarci di quei cosi. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Liberiamocene. Oh merda. Oh merda ragazzi. Questa non me l'aspettavo. Dobbiamo costruire una sorta di cerchio di fuoco. In modo da bloccarli. Blocchiamo il loro passaggio ragazzi. Blocchiamoli. Maledizione. Quella torre era fatta di spawner di Silverfish. In realtà non so se era una trappola per i Griefer. O se era voluto. Ma distruggendo un blocco sono spawnate a rotazione tutti i Silverfish. Guardateli qui. Erano tantissimi. Potevano far laggare tutto. Peggio uccidermi. E qui sotto c'è una casa che è stata scoperchiata. Dopo ci andremo. Ah nel mentre questo è il Golem Rosso. Lui dovrebbe essere il protettore della Sacra TNT. Della Santa TNT. Quindi mi perdonerai Golem Rosso se ti passo palesemente sotto. Senza neanche considerarti. E la Sacra TNT mi spiace per voi ma esploderà insieme al cuore del Golem. Addio Golem Rosso. Non sei stato proprio un grande protettore. Mi dà fastidio quella TNT sprecata ma non voglio tornare là sopra. Effettivamente questa merda. Fila. Fila di fuoco. Fila di fuoco. C'è ancora un ragno. Uccidiamo tutti a fuoco. Diamo fuoco a tutti per ucciderli. Ok. Ok. Questa è una casa. Badabam. Eccoci qui io. Si è aperto a un passaggio sotto. Attenzione. Abbiamo qualcosa di interessante qui. Io intanto questi li vorrei prendere. Minerali. Prendiamo diamanti. Polvere da sparo. Non si sa mai. I silverfish sono ancora abbastanza arrabbiati. Ma noi ce ne andremo qua sotto. Perché a quanto pare è solamente una grotta. Voi non avete idea di quale fastidio mi dia il fatto di non aver terminato di esplodere quelle TNT. Quindi se ora i silverfish mi faranno la grazia di risparmiarmi. Allora vi siete accumulati qua sotto a rompere il cavolo. Ok. Tenetevi una bella TNT in faccia. Così facciamo piazza pulita di questi silverfish o almeno parte di loro. Eh ce ne sono ancora un sacco in realtà. Ok ragazzi sarà meglio utilizzare la polvere da sparo che abbiamo trovato ora per fare altre TNT. In modo da ottimizzare. E ora avviciniamoci alla torre. Come dicevo questa cosa mi dà altamente fastidio. Quindi ragazzi io andrò ad attivare le TNT che non sono state attivate prima. Vai. Perfetto scappa scappa indietro 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 indietro. Uno. Due. E quella lì non si è attivata. Mannaggia mannaggia. Vai. Perfetto. Ok scappa scappa. E quindi quei blocchi rimanenti sono blocchi di silverfish. No queste sono scale. Ma quelli tipo lì sotto? Vediamo se sono tutti i blocchi di silverfish. Oh ragazzi. Ragazzi. Wow. Guarda quanti ce ne sono. Sono tutti triggerati da me. Ora ne voglio spawnare un sacco. Spaccando tutti i blocchi. E poi li voglio uccidere uno dietro l'altro. Enderman stai pure qua sotto. Tranquillo guarda. Fai la fine dei silverfish. Che problema c'è? Vieni sotto. Vieni sotto Enderman. Vieni sotto. Aia aia. Questo è un problema eh. Non facciamo ste stupidaggini. Vai. Buttiamole proprio a cascata. Così moriranno tutti. Beh. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. I silverfish sono stati debellati. La torre non esiste praticamente più. E il server è stato totalmente griffato. Come prima griffata direi niente male. Non so cosa ne pensate voi ragazzi. Ma nei commenti scrivetemi che cosa ne pensate. Vi è piaciuta la griffata? Vi siete divertiti? Se è così lasciate un bel like. La torre di silverfish è stata decisamente una sorpresa inaspettata. Ma ce la siamo cavata lo stesso. E ce la siamo cavata anche contro gli aereo in golem. Per cui sono davvero soddisfatto. Direi che è ora di chiudere questa griffata. Quindi un saluto da Edzalb Nere. Ciao a tutti. Ciao a tutti.